L'aggiornamento del prezzario dei lavori pubblici per i materiali edili era atteso da tempo, in Campania, specialmente dopo l'ulteriore impennata dei prezzi registrati nell'edilizia. Nelle ultime ore, dopo le costanti richieste dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, la Giunta della Regione ha approvato il nuovo prezzario. Soddisfazione è stata espressa dal lance di Benevento che mette l'accento sulla necessità che in più occasioni era stata rimarcata. Abbiamo lavorato sodo sia come territoriale ma come ance regionale per far sì che il prezzario venisse approvato. Abbiamo lavorato soprattutto sulla ricerca di mercato con forti aumenti dove abbiamo riscontrato un aumento medio dal 35 al 40% su tutti i prezzi con alcuni picchi su determinate materie prime. E dal Presidente Ferraro arriva poi una proposta avanzata direttamente al Presidente Vincenzo De Luca per cercare di monitorare l'andamento dei prezzi delle materie prime. Questo consentirebbe di monitorare tutta la materia che verrà impiegata nelle opere, soprattutto in quelle del PNRR, e capire e anticipare eventuali difficoltà di approvvigionamento. Un grande database dove si possa poi verificare e in tempo reale capire quale disponibilità di materie arriveranno o che dovranno essere programmate per quel determinato lavoro e per tutti i lavori della Regione Campania.